17 febbraio falle avvicinare a me e io li benedirò genesi 48 9 dai ai tuoi figli queste quattro cose dai ai tuoi figli queste quattro cose 1 istruzione biblica guardali dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste ed esse non ti escono dal cuore finché duri la tua vita anzi falle sapere ai tuoi figli deuteronomio 49 non è responsabilità dello stato della scuola istillare carattere e convinzioni personali nel cuore di tuo figlio questo è compito tuo e dio te ne riterrà responsabile secondo correzione castiga tuo figlio mentre c'è ancora speranza proverbi 19 18 i bambini che conoscono i limiti in cui muoversi sono liberati da un grande peso la correzione deve essere sempre con amore e mai con la forza terzo benedizione giuseppe rispose a suo padre sono i miei figli ed egli giacobbe disse ti prego falle avvicinare a me e io li benedirò genesi 48 9 quarto esempio l'esempio che i genitori danno ai propri figli ha una tale influenza nella loro vita che tutto il resto sarà inutile senza questo forse il signore operare nella vita di ogni genitore cristiano in modo che sia per i propri figli uno strumento nelle mani del signore per la loro salvezza e la loro consagrazioni a dio